Ritorno sui banchi a macchia di leopardo oggi nelle Marche, dove visto l'aumento vertiginoso dei contagi nei giorni scorsi, diversi sindaci avevano firmato un'ordinanza di chiusura delle scuole fino a lunedì. Soltanto alle 19.30 dell'Epifania è stato chiarito però che non si trattava di un prolungamento delle vacanze, ma si entrava in didattica a distanza. Una sorpresa amara nella calza della Befana, specie per tanti genitori che, dovendo tornare al lavoro, non sono riuscite ad organizzarsi in tempo. La comunicazione tardiva è arrivata tramite una nota dell'ufficio scolastico regionale che, dopo essere stata diffusa nelle chat di insegnanti e genitori, ha mandato in tanti su tutte le furie per la totale disorganizzazione. Il responsabile dell'ufficio regionale, Filisetti, ha precisato che non è stato sospeso il servizio di istruzione perché i sindaci non hanno questo potere. Dunque, dad last minute che ha gettato nel caos le famiglie e degli alunni da almeno una decina di comuni, tra cui Ascoli Piceno, San Benedetto, Fermo, Sant'Elpidio Ammare, Mogliano, Tolentino, Apecchio, Petriolo e Urbino. Ma i primi cittadini incolpevoli rivendicano comunque la bontà della loro decisione. Credo che sia stata una scelta giusta, presa anche all'unisono da quasi tutti i sindaci della provincia, apprezzata sia dai dirigenti scolastici con cui mi sono sentito, sia dai genitori, sicuramente anche dai ragazzi. Intanto quasi 5.500 famiglie hanno approfittato dello screening offerto dalla Regione Marche e dall'Asur, rivolto a bambini e ragazzi di scuole elementari e medie, sintomatici o contatti di positivi o presuntitali. 420 sono risultati positivi su 5.494 tamponi, ovvero il 7,6%. Il maggior numero di casi a Pesaro e San Benedetto, dove sono emersi 48 positivi, rispettivamente su 512 e 508 tamponi. 16 invece le postazioni che erano state predisposte dalle 5 aree vaste. Uno sforzo organizzativo nella giornata dell'Epifania per garantire un ritorno sui banchi in sicurezza. Sulle scuole abbiamo questi due giorni di raffreddamento proprio per far sì che i contagi da capodanno possano uscire fuori in maniera più conclamata, più certa, i giovani, i ragazzi possano controllarsi più approfonditamente, possano avere le proprie risposte e non entrare magari col dubbio a scuola. I tamponi utilizzati sono antigenici di ultima generazione, affidabili come molecolari, fa sapere l'assessore alla sanità Saltamartini. Lo screening scolastico prosegue domani 7 gennaio ad Amandola, nel Fermano, dalle 8.30 alle 13 nella zona Pian di Contro e l'8 gennaio a Cagli, nel Pesarese, dalle 14 alle 18 all'Eliporto.